buongiorno a tutti siamo a focus live il primo festival scientifico di focus e intervistiamo luca mercalli una delle firme più prestigiosi che abbiamo invitato per questo festival andiamo subito al sodo e gli chiediamo se il suo ultimo libro che si intitola non c'è più tempo è un libro terroristico da molti è stato definito un libro eccessivo e io volevo sapere i suoi pareri chiarire perché è un titolo così che sembra veramente allarmante o com'è il com'è la comunicazione soprattutto nel libro io faccio un parallelo con primo levi che mio concittadino maestro per me primo levi racconta nei sommersi salvati nel sistema periodico e primo levi e soprattutto uno scienziato un chimico di come di fronte alle primi annunci di seconda guerra mondiale l'umanità abbia girato la testa dall'altra parte e invece di contrastare il nascente nazismo nazifascismo abbia fatto sostanzialmente abbia girato la faccia dall'altra e abbia lasciato crescere il male fino a quando poi è diventato irrimediabile levi identifica anche i meccanismi psicologici che hanno portato a questo di rimozione di pigrizia di disinteresse di speranza che tanto le cose si risolvessero da sole e la chiama cecità volontaria ecco noi è esattamente questo che stiamo facendo con una guerra molto più grande e che perderemo sicuramente che è la guerra contro i sistemi fisici che governano il nostro pianeta conosciamo da oltre 50 anni problemi ambientali e climatici gli allarmi non li ho mandati io gli allarmi li ha mandati l'intera comunità scientifica che sistematicamente è stata attacciata di catastrofismo fin da quando i sintomi non erano ancora visibili ricordo che il primo rapporto sul cambiamento climatico globale indotto dalla co2 generata dalle attività umane e dell'accademia nazionale delle scienze degli stati uniti firmato dal più grande meteorologo di allora jules charni nel 1979 le nazioni unite costituiranno quasi dieci anni dopo il comitato intergovernativo sui cambiamenti climatici la ipcc nel 1988 quindi possiamo dire che dal 1979 la conoscenza scientifica era ormai completa e sufficiente a dare un nuovo corso all'economia mondiale non più basata sulla continua espansione dei consumi e sull'uso delle energie fossili purtroppo ogni volta che abbiamo procrastinato abbiamo tergiversato abbiamo anche inquinato la scienza con false notizie con il negazionismo che ormai si sa benissimo è stato foraggiato ampiamente in termini monetari dalle grandi società petrolifere noi abbiamo perso quindi tempo ecco perché io ho intitolato il libro non c'è più tempo perché ormai i nodi stanno venendo al pettine se jules charni scriveva nel 1979 un rapporto basato esclusivamente sulla scienza dove i sintomi non erano ancora visibili noi oggi addirittura questi sintomi l'abbiamo la temperatura del mondo sta veramente crescendo la misuriamo la sentono perfino le persone sulla loro pelle abbiamo le ondate di calore estivo che limitano la qualità della vita anche nelle nostre città in italia non si può più vivere a milano d'estate senza il condizionatore ci sono dei dati nuovi 40 gradi in pianura padana non li avevamo mai misurati prima i disastrosi incendi boschivi in california o in scandinavia gli eventi estremi che punteggiano il pianeta quindi oggi abbiamo anche la verifica che quello che era stato previsto dalla scienza 50 anni fa si sta verificando e però perché non facciamo niente quindi altro che libro terroristico è un libro che cerca fino al minuto prima che si sviluppi la catastrofe definitiva di aprire gli occhi come si sarebbe dovuto fare di fronte alla seconda guerra mondiale nel 1934 35 36 prima del 1939 parole di winston churchill che io cito nel libro churchill che dice al parlamento inglese nel 34 la germania si sta armando e nessuno fa niente per fermarla e dice nel 36 l'età delle conseguenze iniziata la consapevolezza che ormai non si poteva fare più nulla e la guerra scoppiò tre anni dopo c'era ancora forse un po di tempo per fare qualcosa il problema è potrebbe essere che la guerra se vogliamo fare un paragone e una diciamo esagerare un po è stato un fenomeno quasi locale la il riscaldamento globale è un fenomeno come dice la parola stessa globale quindi da certi punti di vista è ancora più grave la guerra del riscaldamento globali quanto non sia stata la guerra la seconda guerra mondiale è grave per un altro motivo la guerra tra gli uomini è sempre terribile sanguinosa ma possiamo essere sempre noi a firmare l'armistizio quando vogliamo e così è stato fatto c'è voluto del bello ci sono volute le bombe atomiche alla fine per fermare la seconda guerra mondiale ma poi ci si siede tutti a un tavolo e si firma l'armistizio con le leggi fisiche l'armistizio non si può più firmare nel momento in cui le attività umane mettono in moto certi processi naturali poi noi ne perdiamo il controllo causa effetto la causa ormai è stato i nostri 150 anni di dirompente rivoluzione industriale nei quali abbiamo cambiato i parametri fisici dell'atmosfera ricordo che parliamo di numeri non di fantasie 300 parti per milione la co2 280 parti per milione la co2 atmosferica pre industriale 410 quella di oggi in crescita cose mai viste sullo spazio di almeno 3 milioni di anni e quindi noi stiamo svegliando un sistema dormiente che poi però una volta che comincia a camminare vive di forze proprie immensamente superiori a quelle umane vuol dire che quando i danni saranno poi evidenti e semineranno il panico nel mondo non è che facciamo una grande assemblea delle nazioni unite mettiamo i voti cara termodinamica per favore basta così abbiamo sbagliato da domani facciamo i bravi e la termodinamica ti fa una cosa molto semplice il gesto è esemplare andiamo adesso sull'ultimo l'ultimo rapporto dell'ipcc che secondo chi l'ha letto secondo dice che hanno anche l'ha giudicato insomma lo si è giudicato un rapporto molto chiaro il più chiaro di tutti quelli che che sono stati emessi un po' perché è teoricamente più breve nonostante il 700 passo pari un po perché si parla chiaramente di due ter di due bersagli tra virgolette cioè un grado e mezzo e due gradi da certi punti di vista è un rapporto ottimista perché dice si può ancora ci si può ancora fermare a un grado e mezzo di temperatura molti dicono che non è affatto così cioè che ormai in grado e mezzo un po per l'inerzia del sistema un po per l'inerzia della volontà politica ormai è praticamente raggiunto risponde al vero o c'è ancora la possibilità di fermarsi a quella grado e mezzo questo rapporto speciale del comitato intergovernativo sui cambiamenti climatici firmato da tutte le nazioni del mondo è chiaramente un rapporto che è diplomatico parla a tutto il mondo con termini che sono stati accuratamente scelti uno per uno e vagliati da tutti i paesi mondiali è chiaro che non può eccedere una certa misura comunicativa e allora c'è scritto sì si può teoricamente fare ancora qualcosa a patto di uno sforzo senza precedenti per l'umanità e sono parole apparentemente non allarmanti ma se fai l'analisi lessicale uno sforzo senza precedenti per l'umanità vuol dire qualcosa di enorme di gigantesco qualcosa che dovrebbe essere a caratteri cubitali sui giornali il mattino dopo qualcosa che dovrebbe muoverci tutti è un cambiamento che nasce stasera ogni giorno che perdiamo lo sforzo senza precedenti diventa così grande che poi diventa impossibile non sembra peraltro che l'umanità abbia capito la portata di questo messaggio infatti un attivista ambientalista finlandese presente alla presentazione di questo rapporto a inizio ottobre 2018 ha detto gli scienziati parlano con i numeri parlano con i grafici i diplomatici parlano con le parole misurate per non eccedere certi canoni comunicativi dei singoli governi ma io vi traduco quel rapporto con tre parole agite subito stupidi ecco di fatto se traduciamo il contenuto di quel rapporto nella nostra quotidianità abbiamo veramente poche chance per centrare questo obiettivo e probabilmente è già perso io sono convinto che sia perso per i motivi di cui ci ha descritto primo levi e per il fatto che non stiamo dando un peso un peso anche emotivo e comunicativo a questa notizia è una notizia che sostanzialmente nelle ultime pagine dei giornali nelle prime pagine c'è il pil c'è lo spread c'è la borsa di tokyo e quella di wall street quindi è anche una questione direi soprattutto tra parlando da giornalista è anche una questione di comunicazione sicuramente è tutta la comunicazione che non abbiamo fatto nei 30 anni precedenti ed è quella che ancora oggi non si fa e qualche grande giornale al mondo comincia a farla veramente bene perfino euro times ha iniziato ad aprire una rubrica sul cambiamento climatico cercando di contrastare la politica invece negazionista di donald trump abbiamo il guardian che è un giornale che ha aperto da anni una grande pagina sul problema ambientale gli sta dando il peso che merita il mondo ha fatto un buon lavoro ha aperto anche una sezione planet dove le cose sono dette in modo chiaro però è chiaro i giornali sono anche letti ormai da una minoranza della popolazione e già sono pochi ci sono poi anche quelli che rovinano il lavoro fatto bene degli altri creando zizzania e invece espandendo le fake news news negazioniste e poi non riusciamo ad arrivare alle masse il problema è quello chi legge il giornale forse può anche capirle queste cose e poi la politica è imprigionata abbiamo della politica anche sensibile e quella europea lo è rispetto a quella americana è continuamente ricattata da un'economia che invece guarda al giorno dopo e guarda a far cassa con il denaro e quindi il problema del fatto del rallentamento di tutte le nostre azioni l'accordo di parigi è un pezzo di carta che dice stiamo sotto i due gradi meglio 1,5 ma le cose della carta devono poi fluire nella quotidianità delle persone quindi devono prima essere recepite dai governi i governi devono legiferare trasformarle in leggi cogenti i cittadini devono recepirle e metterle in pratica sappiamo anche quante di queste scelte siano poco popolari vi faccio un esempio più pratico se io dovessi essere un premier italiano che mette immediatamente in atto l'accordo di parigi una delle prime cose che farei aumenterei la benzina al distributore è in modo più pratico per farne consumare di meno ma probabilmente mi sparano dopo pochi giorni oppure non mi eleggono neanche se ma io lo dico prima come programma di governo ecco perché in sostanza siamo in stallo quindi lasciando da parte il grado e mezzo che ormai diciamo è raggiunto andiamo un po sul tecnico vediamo che cosa le nazioni dovrebbero fare per rimanere all'interno dei due gradi considerando un fatto fondamentale i due gradi nonostante siano soltanto mezzo grado cioè molto poco una cosa impercettibile in più del grado e mezzo sono hanno un impatto enormemente superiore sugli ecosistemi terrestri a quanto si legge nel rapporto ammettiamo un due gradi dobbiamo raggiungere i due gradi il suggerimento è personale e politico personale quello che dobbiamo fare noi cambiare le lampadine mangiare meno carne non usare l'automobile usare meno aerei eccetera eccetera politico carbon tax carbon price riforestazione eccetera eccetera è un piano globale o sono tanti puzzle ancora da mettere insieme tanti puzzle da mettere insieme intanto vorrei darvi una metafora per capire cosa vuol dire mezzo grado cosa vuol dire un grado sulla biosfera e basta pensare al nostro corpo quando aggiungiamo mezzo grado la nostra temperatura corporea ci sentiamo già malattini è già una febbre vuol dire avere 37 6 37 8 cioè cominciamo a entrare nell'area nella quale andiamo a casa e prendiamo l'aspirina quando aggiungi due gradi stai già molto male hai già oltre 39 gradi quando ne aggiungi cinque sei morto a 42 gradi ecco il nostro pianeta funziona così quando aggiungiamo mezzo grado un grado a livello planetario sconvolgiamo completamente gli equilibri della biosfera le specie evolvono migrano cercano di adattarsi in altro modo qualcuno si estingue perché poi lo aiutiamo anche con altri mezzi a estinguersi il clima è una cosa ma noi poi deforestiamo cementifichiamo inquiniamo quindi aiutiamo in un momento di debolezza aumentiamo ancora la le possibilità dell'estinzione e infatti biologi dicono che abbiamo aperto la sesta estinzione di massa che è un'altra cosa gigantesca non insieme al problema climatico cosa possiamo fare noi ovvio che possiamo fare molto per abbattere gli sprechi che sono già un tema importante della nostra società occidentale nostra società occidentale spreca secondo i calcoli europei almeno il 30 per cento di quello che fa senza trarne un immediato vantaggio quindi non stiamo parlando di far diminuire il nostro livello di vita se già fossimo attenti a come usiamo l'energia le materie prime noi potremmo stare benissimo come adesso con un po di attenzione accendendo il cervello in certe situazioni non lo facciamo per pigrizia per disinteresse poi abbiamo bisogno di tecnologia per tagliare un altro po di sprechi abbiamo bisogno invece di un aiuto non solo di una scelta la scelta dello spreco e spengo la lampadina quando non sono lì faccio l'isolamento termico della casa il passaggio successivo è applico nuova tecnologia metto i pannelli solari questa tecnologia di alto livello io e te non siamo in grado di fabbricarci il pannello solare in cantina abbiamo bisogno di un'industria proiettata verso il futuro che ci costruisce la domotica per sentire nella nostra casa la presenza delle persone regolare la temperatura nelle stanze ombreggiarle d'estate tirando giù la tenda accendendo il condizionatore solo quando serve usando l'energia solare per caricarci la batteria della macchina nei momenti in cui ce n'è troppa abbiamo tante scelte che sono anche motivanti direi per i nostri giovani che si iscrivono oggi a una università la più grande sfida dell'umanità può anche essere risolta con un grande investimento culturale scientifico tecnologico posto che sia messo veramente al servizio della sostenibilità e non per fare fuffa non per fare stupidaggini invece purtroppo oggi abbiamo tanta tecnologia che peggiora il problema lo amplifica e poi c'è una politica che deve predisporre le condizioni laddove noi non possiamo più arrivare è chiaro che il sistema della tassazione il sistema delle grandi progettualità di un paese verso la resilienza nel dissesto idrogeologico per dirne una oppure verso la diffusione delle automobili elettriche per dirne un'altra hanno bisogno di una spinta che nasce da un governo centrale non lo possiamo fare noi due le due cose devono andare però insieme un colpo lo fa il cittadino un colpo lo fa la politica e avanti così se manca la comunicazione il cittadino non ha la consapevolezza della gravità della situazione rifiuta il cambiamento non sostiene la politica che chiede queste nuove cose e tutti rimangono bloccati nel business as usual nel quello che abbiamo sempre fatto peggiorando il problema ecco perché non andiamo avanti anche perché i cittadini non sostengono abbastanza quei pochi politici che queste cose le vorrebbero fare torniamo un attimo alla comunicazione noi di focus ci siamo sempre impegnati abbiamo parlato parecchio di cambiamento climatico in tutti i suoi aspetti anche nelle cose più curiose e contestabili tipo la geoingegneria e robe di questo genere di cui bisogna parlare ovviamente anche soltanto per dire non va bene perché la maggior parte di parliamo dei quotidiani che sono oppure anche delle televisioni perché la maggior parte di questi mezzi di comunicazione non affrontano minimamente problema e quando lo affrontano usano sempre un metodo sbagliato che è quello del force balance cioè far parlare chi è favore e chi è contro è una questione psicologica è una questione economica è una questione di messaggio che va posto così io penso che ci siano due grossi problemi almeno in italia abbiamo visto che ci sono grandi quotidiani che invece hanno aperto un filone di grande qualità comunicativa scientifica su questi temi in italia invece abbiamo due problemi il primo è che le redazioni dei giornali italiani non sono preparate con giornalisti che abbiano una cultura scientifica ad eccezione focus no no sto parlando i quotidiani focus io la considero già una rivista specialistica di divulgazione ma specialistica che va a chi è interessato a recepire un'informazione scientifica ad aggiornarsi i grandi quotidiani invece in italia io lavoro per la stampa e sono già contento di avere la mia rubrica fissa sul cambiamento climatico da dieci anni ma non è la no la norma spesso nelle redazioni non abbiamo giornalisti formati in campo scientifico e noi sappiamo che la complessità del dell'argomento limite fortemente la possibilità di un giornalista di cimentarsi uno dice ma io alla fine lascio perdere perché è troppo difficile per me oppure scrive stupidaggini l'altro elemento è l'autocensura visto che ormai la vulgata della comunicazione dell'ambiente non frega niente a nessuno testuali parole che mi sono sentito dire da tanti redattori sia della televisione sia della carta stampata è chiaro che io inseguo l'audience perché devo vendere la pubblicità e queste cose qui quindi l'ambiente lo relegue a una notiziola accessoria le due cose purtroppo diventano sinergiche così la gente avrà sempre meno informazioni su questo settore e se ne allontanerà sempre di più e sarà sempre meno popolare e quindi ne parlerò ancora di meno quindi potrebbe succedere un qualcosa dal punto di vista della società che diciamo che può richiamare quella famosa barzelletta quella freddura del signore che sta cadendo dal centesimo piano e fino al 50 cm da suolo dice tutto bene anzi è bellissimo è una novella di Dino Buzzati ragazza che precipita bellissima l'ho usata anche io tante volte come metafora la ragazza che si che si butta dal centesimo piano legata a cielo le sembra di volare e lei dice ma è una cosa meravigliosa e quelli dei vari piani che le dicono sono tutti allarmati perché sanno che si spiaccicherà e lei fino all'ultimo piano sta benissimo quando comincia a vedere l'asfalto si accorge la novella mi sembra che termini con splaccio direi che possiamo chiudere con questa nota positiva e umanistica letteraria non soltanto qualcosa di scientifico grazie a tutti da focus live che continua ancora oggi pomeriggio domani e domenica da marco ferrari di focus grazie infinita luca mercalli per l'intervista grazie a tutti